Sono già 40 le start-up abruzzesi che si sono iscritte al Premio Cambiamenti, un premio al pensiero innovativo delle neo-imprese italiane indetto dalla CNA e che verrà assegnato a fine novembre a Roma. L'iniziativa, su base regionale e nazionale, è ormai considerata un evento di spicco nell'universo delle start-up e che ha registrato nelle prime due edizioni la partecipazione di oltre 1.300 imprese candidate con decine di eventi territoriali di premiazione. Il premio è rivolto a tutte le imprese iscritte almeno dal 2015. Quali sono i settori? Di tutti i settori, in realtà troviamo dal food, dall'innovazione tecnologica, da e-commerce, da intelligenza artificiale. Ci sono molte attività che hanno veramente delle innovazioni che le capiamo solo quando ce le racconto, in realtà non riusciamo a immaginarle prima, buon per loro che le mettono in campo. Ma anche i settori tradizionali che però hanno la capacità di innovare un business nato tradizionalmente ma guardando al futuro. Quindi mi ricordo la prima edizione, tra i finalisti abruzzesi si è proposto un ragazzo che ha costruito un incoming esperienziale turistico, quindi un'attività tradizionale legata al territorio ma in maniera innovativa e godeva di una presenza turistica del 100% dei clienti americani e stranieri. Cosa vince la start-up più creativa del panorama italiano? Il premio Cambiamenti mette in palio 20.000 euro in viaggio a Dublino per chi si aggiudicherà il primo posto. Le aziende abruzzesi hanno sempre ottenuto ottime posizioni, un'iniziativa che riafferma l'attenzione di CNA al mondo della giovane impresa. Una grandissima soddisfazione non solo per la CNA di Terra ma anche per la CNA regionale e nazionale. È un premio che sta attirando molta attenzione e molto partecipato per cui siamo orgogliosamente contenti perché significa che stiamo lavorando bene soprattutto per la crescita e lo sviluppo delle piccole imprese, delle start-up e quindi è la nostra mission che dà risultati.